Ciao ragazzi! Questo è il nostro best friend tag Lei è la mia migliore amica Lei è la mia migliore amica Sì E niente Iniziamo! Prima domanda Quando e come ci siamo conosciute? Allora Quando? In prima e superiore Nel 2009 Il 10 settembre Come? Facciamo la metà metà Ah ok, come? Ho detto il primo sommetriore Efficiente Se potessi andare in un luogo Dove e perché? In Canada Lei è in Canada sicuro Perché? Perché è Canada Sì, sarebbe stata la mia risposta Perché è il Canada Lei invece è New York Qual è il tuo colore preferito? Allora, lo stesso colore preferito abbiamo L'azzurro Qual è il nostro cibo preferito? Cioè, il tuo cibo preferito o il mio cibo preferito? È ovvio Il tuo cibo preferito? No, ne sono tantissimi Non abbiamo un cibo preferito A me piace mangiare tutto A me piace mangiare tutto A me piace mangiare tutto Ancora, non c'è un migliore amico Lei non ha una cotta Non ha un crush Lei ha un boyfriend E niente Abba, forzalanda Dico questo perché Lui so il perché Forzalanda, Abba Vampiro Nea, crush di Nea Non ce l'ho Infatti Ma perché ho risposto di roba sua? Lo so che non c'è Perché se no me l'avrebbe già letto Cioè, c'è però non posso dire il nome Magari lo vedi No, non c'è No Qual è la più grande paura della tua migliore amica? Allora, la sua più grande paura Gli insetti mi sembra un po' troppo scontato Fatta E' questa Secondo me la po' la più grande di me è di cambiare la sua famiglia se la tua migliore amica fosse su un'isola deserta quali sono le tre cose che lei si porterebbe perché non ne riesce a fare a meno io lo so vai vediamo allora il cibo si ma ha detto tre cose a tre cose la macchina fotografica il wifi e il cellulare no quella cosa su per te il wifi e il cellulare lei sicuro e il ricaricatore no wifi lo vuoi sicuro e il cellulare lo vuoi anzi no si riporta il ricaricatore portazio e se ti scarica il cellulare e quando ti scarica il cellulare un coltello così si ammazza grazie mia secondo me è un costume che mi ha sopra le occhiali da sopra le occhiali da sopra le occhiali cose che non porterebbe mai infatti sinceramente non saprei condizionatore dai asciugamano mi sarà deserta dove il sole ce ne sarà quindi sole ombrellone ombrellone perché? perché mia non vuole prendere il sole penso all'asciugamano per asciugare il sole non la faccio direttamente e poi la macchina fotografica qualche tempo ci mette la tua migliore amica a vestirti allora mia è una persona molto lenta e ci mette un bel po' lei invece rispetto a me ci mette molto di meno questo lo so quindi so solo che ci mette molto di meno no è molto più veloce di me sicuro mia tantissima tempo si qual è la mia stagione preferita e qual è la tua? allora la stagione preferita di Kate è l'estate hai sparato a casa? no 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 ok non è sbagliato è la primavera ed estate ma se dobbiamo essere precise ok va bene esatto ok mia invece non le piace il caldo quindi penso sia inverno eh davvero? no mi piace la primavera perché sono nata in primavera ok si sono nata in primavera sono nata in primavera che cosa mi rifiude la tua migliore amica? che è determinata è matura solidente è sempre disponibile ad aiutare gli altri soprattutto la sua famiglia ovviamente ma no sembra che sta dicendo solo cose belle che cosa? eeeh cioè sembra una persona fantastica dispruta così infatti sei una persona fantastica ma cos'è che sei così buona oggi? perché mi hai fatto mangiare ahahah una cosa che ammiro di Kate è il fatto che niente è una ragazza davvero forte ma forte 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 aahm forte non vorrei poi andare nel dettaglio quindi dico solo forte è una cosa che ammiro tanto preferisco gli horror o i film divertenti o è la stessa cosa anch'io lei credo film divertenti ciao 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 ciao